L'ipoterapia, guarda. Ha sentito la rosa mia? Ah, sì! Cioè, l'hai lavato la criniera con la pavoletta. Ah, mannaggia. Hai sentito la rosa, eh? Sì. Se riesci a tirare sul prezzo. Non prezzo su voi, poi prezzo su chi ci ospita. Sì, sì. Voi immagino siete già tirati. Questa non li posso mettere su YouTube. Li posso mettere pure su YouTube se vuoi.